Contendiamo l'autostazione Ole, che desfo madonna Uhuhu, uhuhu, non ci credo No, 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 fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Bella a tutti ragazzi, sono Numedino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video Siamo tornati oggi con una partita davvero molto 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 carina Infatti siamo qua ragazzi con un nuclear fatto in meno di due minuti su iJacked La mappa nuova che hanno messo, che è il remake, quella di Black Ops 2 per chi non lo sapesse E niente, è una partita davvero molto carina perché al di fuori del nuclear ho fatto pure 135 kills Allora, diciamo che tipo fino, non ve la faccio vedere tutta perché fino a un certo punto è stata una partita non dico di merda Però gli avversari non erano così scarsi come poi sembrano ma non so neanche più qua spiegare lobby non lobby Se volete vedere che lobby trovo il mio Twitch è qua, seguitemi e venite a vederlo in live E niente, ma una certa, ho visto che mancava poco tempo, avevo ancora, mi mancava un po' che kills al 100 o più Ho detto sai cosa, puscio un po' di più Solo che questo pushare un po' di più si è trasformato in un nuclear fatto appunto in 1 minuto e 10, in 1 minuto e 50 secondi Quindi in 110 secondi, velocissimo Mi dispiace interrompervi così all'improvviso ma dopo aver montato, caricato e fatto tutto il video Mi sono reso conto che in realtà il nuclear è stato fatto in 95 secondi, non 110, quindi sotto i 100 Avrete pure il cronometro nel video così potrete controllare voi stessi Molto bello Su postazione la partita penso possa piacervi perché è molto carina da vedere Spero davvero tanto che possa intrattenervi Mi raccomando iscrivetevi ancora al canale, ho visto che la maggior parte di chi vede i video non è iscritto Quindi non vi costa niente Subscribe, mi date davvero una grossa mano Ed in più rimanete aggiornati su tutti i video Qua sotto poi inoltre trovate il mio canale Twitch Seguitemi pure là, sono in live tutti i giorni dalle 2 alle 4 e in caso pure la sera Instagram, io vi ho detto tutto ragazzi Spero che il video possa piacere, vi mando un bacione E vi auguro una buona giornata e una buona visione Ciao boys Mi sa sul cazzo per il semplice fatto che ho buttato via l'ARP Perché mi hanno dovuto tirare contro le Strix Questa è una roba che mi dà fastidio Mo voglio fare una roba che su Black Ops 2 si poteva fare Non so se si può fare ancora Tanto che si può fare ancora No, no regà, pure la cannoniera no Ciao Enzo Pure la cannoniera no Questo è un game rovinato Un game rovinato dai compagni Cioè dai compagni in realtà Dalle streak, da sto sistema di streak di merda Era un game così clean Si poteva fare il 100 più Mancano ancora 2 minuti Regà di partita sono 87 In realtà si può fare comunque il 100 più Però la cannoniera la un po' Devo stare dentro le case Devo stare dentro le case Mi dino, proceda ad uscire dalla casa per mirare Ma dentro la casa pure Mamma mia regà se tilto Tutte ste morti da sta cannoniera Quanto cazzo di dura la cannoniera raga vi giuro Mi sta facendo girare i coglioni Basta Oddio raga vi giuro sto per tiltare Raga raga sono nervoso Quanto cazzo dura la cannoniera raga Basta ti prego Vedete raga questo è quello che avevo detto nel video Avete visto la mira cosa mi è successo? Questo è quello che avevo detto in quel video Che dopo un po' della p***a Quando giochi troppo bene Ti smarcia quasi apposta la mira Cioè con quel brevetto che vi avevo fatto vedere al tempo Pure la torretta robot Ci assi quasi sono fatti L'amplain con le streaks Che cosa consiglio usare in sensualità mirino? Beh io uso La mia sensibilità Regà io dico sempre I player forti Giocano Cioè su multi almeno con sensibilità bassa Per avere una buona mira Almeno che non giochi con lo sniper E io uso 6-6 di sensibilità Che comunque è bassa E modalità mirino 0-8-0-8 Quindi in poche parole io ho 6-6 di movimento normale E 4-4 in modalità mirino 98 100 più godo E ancora una volta The aimbot man Raga quella roba Lì mi dà l'aimbot Vi giuro No Faccio da questa postazione Che voglio Paura Abbiamo perso la postazione Io caro Poco incazzato Il midi Smasso a 26 di fila Per il nuclear Dai Levati dalla postazione Compagno figlio di puttana Oh Sgodo nuclear pure Ma che game è? Oh raga Fermi 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 Ma che game è? Ma che game è? Oh 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 Pure il nuclear Pure il nuclear ho fatto Il mio record Se dura ancora un po' Potrei fare il mio record No non dura ancora un po' Perché i compagni Sono tutti Cioè O faccio 80 kills di fila adesso Sono ben tutti qua Dai compagni Levatevi dal cazzo dalla postazione Vi prego Ci devono te Dai levati dal cazzo Compagno di Maffanculo 48 Non ci credo Non ci credo 135 5 5